Poggiardo e Scorrano, l'emblema di una sanità che non va, accade in Salento dove a fronte di un ospedale fantasma, quello di Poggiardo, di fatto chiuso dalla regione nel 2010, si continuano ad effettuare ricoveri, al contrario di quanto avviene a Scorrano, dove i servizi e i reparti di base invece ci sono tutti, persino la rianimazione, ma dove però mancano i medici, come ammette lo stesso direttore generale dell'ASL, Valdo Mellone. E' carente di primari, le pensi che su sei primariati di anestesia e rianimazione in azienda ne ho uno solo in carica, uno, uno su sei. Due casi spinosi che l'ASL sta cercando di risolvere non senza problemi di gestione politica, come per il caso di Poggiardo, destinato a diventare da tempo un poliambulatorio territoriale, ma su cui ancora non si trova la quadra per la mancata firma dell'accordo di programma. Questa è una telenovela che si trascina dall'assessorato di Fiore, poi passato attraverso quello di Attolini, poi attraverso quello della Gentile, sempre con un'interlocuzione con consiglieri regionali, con autorità politiche locali che hanno certamente la dominanza sull'opinione di un tecnico come sono io. Se sono diradate le nuvi politiche, vuol dire che non ci sono esitazioni da questo punto di vista, è una cosa che si può fare abbastanza in fretta.